Io penso che sarà un grande anno perché soprattutto in preparazione al 2023 ci sarà la live per questo evento clamoroso di cui parlavo a bassa voce anche dal Presidente del Consiglio, il mio appassionato di Golfer perché sarà felice di partecipare. Non ci aspettavamo che in un periodo di Covid, di chiusura dei campi, ci potesse essere un momento così, fantastico, clamoroso e siamo veramente felici. Le nostre iniziative sono molteplici, abbiamo questo grande risultato con le donne, ci fa molto piacere, hanno avanti benissimo, siamo alla conclusione, adesso siamo molto impegnati dalla logistica perché si sta intervenendo sulle strade di accesso, sulle tipotina, ampliamento della tipotina e tutto quanto poi comportano nuovi eventi così clamorosi come le Olimpiadi, tra l'ora e il mondiale contatto. Grande ritorno come ci sarebbe stato se Roma avesse avuto le Olimpiadi per il 2024. Ma va bene, speriamo di ripagare Roma perlomeno in parte. Grazie. Grazie. Grazie.